Affrontano durante questa giornata quattro tematiche importanti, immigrazione, lavoro, maternità e poi tutto quello che riguarda il rispetto e quindi la non violenza. Ad esempio questo elaborato, sempre realizzato con la tecnica degli acquerelli, rappresenta per i ragazzi la diversità che però può unire e deve unire, specialmente oggi. C'è un altro elaborato molto interessante, la ragazza ha affrontato la tematica del diritto alla maternità anche nello sport. Vediamo un attimo l'elaborato, sempre una studentessa della classe seconda C. Un altro elaborato rappresenta invece la donna nelle forze dell'ordine. Andiamo a vedere ovviamente è stilizzato e anche i colori sono interpretati dalla studentessa. Grazie. 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 Grazie.